Il formato di firma ASIC Simple è un contenitore di dati che raggruppa un file e relative firme digitali distaccate o marche temporali associate utilizzando il formato zip. Questo formato di firma è applicabile solo in caso di caricamento su ArubaSign di un singolo file. Prima di iniziare, collega il lettore al PC e inserisci la smart card nel lettore. In alternativa, se sei in possesso di un token USB, collegalo al PC. Avvia il software ArubaSign. Carica il documento da firmare cliccando su Seleziona documenti oppure trascinalo all'interno della schermata. Nella colonna Documenti da firmare è visibile il documento caricato. Sotto la colonna Documenti firmati è possibile rinominare il file. Dal menu a tendina indicato, seleziona la voce ASIC-S. Se sei in possesso di marche temporali, oltre alla firma puoi apporre ai file una marcatura temporale. Ti basta abilitare il checkbox in corrispondenza della voce Marca temporale e selezionare il formato che desideri dall'apposito menu a tendina. Abilita il checkbox indicato per salvare i file nella cartella di origine oppure clicca sul pulsante Cambia cartella per selezionare una cartella personale dove salvare il documento. Clicca Prosegui e firma. Al punto 1, seleziona la voce Firma con dispositivo. Al punto 2, il certificato di firma, contrassegnato da nome e cognome, viene automaticamente rilevato. Inserisci il PIN della firma digitale. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarlo in chiaro. Clicca Firma. Al termine dell'operazione si visualizza la schermata che notifica la corretta firma digitale del file. Apre la cartella all'interno della quale è stato salvato il file firmato oppure clicca su Chiudi.